Ciao a tutti, oggi vi mostrerò un panettone a modo mio, io lo sto realizzando con la pasta brioche da barra, però non metterò né le uova e sarà leggermente diversa a livello di sapore. Versate nel boccale tutta l'acqua e il lievito, versiamo lo zucchero, azionate il bimbi 2 minuti, 37 gradi, velocità 2, versate una parte di farina, l'estratto, l'essenza panettone, azionate il bimbi 10 secondi, velocità 4. Lasciamo riposare l'impasto ottenuto, il lievitino diciamo, nel boccale stesso per 40 minuti. Dopo aver lievitato mettiamo la rimanente farina. Azionate il bimbi 4 minuti, spiga, unite il sale e lo strutto a fiocchetti. L'ultimo minuto aggiungiamo l'uvetta sultanina. Lasciamo lievitare nel boccale fino al proprio raddoppio. Trascorso il tempo di lievitazione trasferite nei pirottini questi piccoli, io avevo questi, non ce l'ho natalizi. Quindi coprite con la pellicola e lasciate lievitare fino a che non arrivano al bordo. Dopo aver lievitato, infornate a 180 gradi, forno caldo con un pentolino di acqua bollente nella parte bassa per 25-30 minuti. Li ho infilzati con uno stuzzicadenti e li ho lasciati riposare a testa in giù. Ed ecco il risultato finale. Sono sofficissimi. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. and a half